Grandi manovre nella politica campana in vista delle elezioni del 25 maggio per le europee, ma anche delle amministrative che interessano alcuni importanti comuni. L'alleanza elettorale NCD-UDC punta ad una percentuale a due cifre alle amministrative in Campania con l'obiettivo di fare della regione una testa di ponte della futura nuova formazione politica che dovrebbe nascere dopo le elezioni. Lo hanno affermato il sottosegretario alla difesa, Giacchino Alfano, di NCD e l'assessore al turismo della regione Campania Pasquale Sommese in quota UDC presentando le liste alle europee in un albergo del centro di Napoli. Ascoltiamo i due esponenti politici. In posizione territorio, abbiamo fatto un'alleanza che sta funzionando e mi dispiace che molti ex alleati non l'hanno compresa. Quindi molti sindaci sono nostri, in comuni importanti dove c'è bisogno di assumere queste responsabilità. Credo che è un'alleanza che possiamo definire un nuovo partito. Dal 26 maggio, oltre all'europea, avremo comuni amministrati da nostri sindaci, da nostri consiglieri comunali. Questo ci dà grosse responsabilità, anche soddisfazione. Saremo pronti a farlo. Ma quindi è un percorso? Ormai non si può più tornare indietro. Io lancio uno slogan. Dobbiamo ricordare da dove veniamo, ma è importante dove vogliamo andare. È l'obiettivo che ci mantiene insieme. Noi siamo al governo per riforme fondamentali, siamo nei comuni per fare cose fondamentali. È importante cosa vogliamo fare. Molte volte le barricade diventano più una tattica. Noi non amiamo tattiche. Anzi, io riterrei una lettura attenta e colgo l'occasione per dire che il primo esempio unificante che stiamo registrando è il nuovo centrodestra UDC. Basta pensare che nella sola provincia di Napoli, su otto comuni al voto, ben sei sono alleati e cinque con un unico simbolo, NCD UDC. Il simbolo presente anche agli europei. Rispetto alla debolezza che abbiamo avuto in modo di vedere dei partiti di questi anni, c'è un primo momento unificante. Noi lo registriamo oggi e credo che il 25 maggio avremo l'occasione di vedere come sarà apprezzato in tutti i comuni la presenza di sindaci, di rappresentanze, di amministratori comunali all'interno delle proprie città. Credo che questa campagna elettorale delle europee e delle comunali debba servire per unificare i gruppi unici in tutti i comuni dove non siamo andati con lo stesso simbolo, così come alla regione Campania, così come nel Parlamento nazionale.